Il concerto dei leggendari nomadi si farà, confermata la data, quella del 21 settembre, cambiata la location, non più nel suggestivo scenario di Terra Rossa, alle pendici della Maiella, ma a largo assunta nel cuore di letto Manopello. L'idea degli organizzatori, a cominciare dal sindaco Simone Romano D'Alfonso, la coordinatrice del premio Lector in Terra Lecti, Silvia Elena Di Donato e dell'ispiratore dell'evento, il deputato Luciano D'Alfonso era ben altra, quella di celebrare il felice connubio tra letteratura e ambiente in un contesto di forti emozioni, ma un certo ostracismo in punta di diritto amministrativo da parte del direttore facente funzione del Parco della Maiella di Martino ha costretto a modificare i piani. Sì, un po' rammaricato, non mi aspettavo questa distanza dal Parco Nazionale della Maiella, della Maiella, però naturalmente noi non ci fermiamo, siamo organizzati anche per un piano B, il piano B prevede appunto il concerto a largo assunta, dove sappiamo tutti che il largo assunta è la porta principale della nostra comunità, una piazza che può ospitare più di 5.000 persone e sicuramente coloro che verranno a visitare o comunque ad ascoltare i nomadi potranno sicuramente assistere ad uno spettacolo bellissimo che si svolgerà a letto un appello in piena sicurezza. I sogni non si possono fermare, così da una battuta d'arresto imposta da altri si riparte con maggiori ambizioni per l'edizione del 2025 con il deputato D'Alfonso che annunciando un personale impegno per dare al Parco della Maiella un vero direttore e non un facente funzione parla di grandi progetti con il concerto, questa volta a tutti i costi, in terra rossa di Bregovic e parlando di un evento mai visto in Abruzzo nell'ampia area dell'interporto di Manopello, dove si terrà il concerto di una delle più grandi rock star del Novecento. Contatti sono stati già avviati ed è stata raccolta già una disponibilità di massima, ma il nome va tenuto ancora segreto. Intanto Silvia Elena di Donato, pensando all'edizione prossima, traccia un bilancio di quanto avvenuto in questa estate a letto a Manopello. Questa edizione 1 di Lector in Terralecti ha dato grandi soddisfazioni, ha avuto davvero un felice riscontro. Tanti lettori, membri della giuria pieni di entusiasmo, tanta partecipazione. I nomadi hanno saputo esprimere una esperienza musicale capace di mettere in dialogo generazioni, che è proprio lo spirito di Lector, mettere in dialogo generazioni, mettere in dialogo le varie dimensioni dell'umano e del vissuto, costruire ponti, costruire ponti di parole, ponti di emozione, ponti di condivisione. Questo è lo spirito con cui ci apprestiamo ad accogliere il concerto dei nomadi. Che vuole essere l'evento conclusivo di questa edizione 1, ma soprattutto mi piace pensare, ritengo, che sia l'evento anche di apertura per la edizione 2025 di Lector in Terralecti, per la quale siamo già al lavoro e per la quale in cantiere ci sono già molte sorprese.